Si stanno avvicinando le festività natalizie un appello agli automobilisti per evitare incidenti stradali che molto spesso anche nella marca sono mortali. In questa provincia è un fenomeno purtroppo molto presente, io dico guidate concentrati, concentrati senza distrazione, mettetevi la guida nel pieno possesso delle facoltà quindi evitate di cedere nell'alcol e in altre sostanze però siate concentrati perché molti incidenti sono dovuti alla velocità ma anche alle distrazioni. Grazie